1. Io sono viaggiatrice. 2. Io non sono viaggiatore. 3. Lei è viaggiatore. 4. Lui è sano. 5. Lei non è sana. 6. Lei è sano. 7. Voi siete studentesse. 8. Loro non sono studenti. 9. Voi siete studenti. 10. Loro non sono sane. 10. Voi siete studenti. 10. Voi siete studenti. 10. Voi sei virtuale.